Se conosci già questo canale probabilmente sai che all'interno del canale periodicamente condivido delle opportunità di guadagno Alcune semplici, altre un po' più complicate Oggi voglio parlarti dell'opportunità davvero semplice che offre Revolut per guadagnare 200€ più al mese Grazie al suo programma Invito un Amico o Referral Program Revolut è un conto carta con tantissimi vantaggi e funzionalità Ne ho già parlato all'interno di questo canale in diversi video E ti lascio linkato qui sopra nelle schede il video con la mia recensione di Revolut E poi ancora il video in cui ti parlo del perché secondo me Revolut è una delle migliori carte per viaggiare Altro video che ti lascio linkato qui sopra nelle schede Oggi invece voglio parlarti dell'opportunità che offre Revolut a tutte le persone che utilizzano il suo conto e la sua carta Di guadagnare 40€ per ogni persona invitata ad utilizzare Revolut Il programma Invito un Amico Quando si parla di conti online, di conti carte, di carte prepagate Molte di queste aziende offrono infatti dei bonus proprio per incentivare le persone Di invitare altri amici ad utilizzare le loro app, i loro servizi ed i loro conti E parlare di Revolut così come ho fatto nel video dedicato ad un'altra banca Ovvero Buddy Bank che mi ha permesso di guadagnare 250€ per proporre il servizio ad altre persone Per me è davvero un piacere Prima di spiegarti dunque come funziona il bonus invito un amico di Revolut E come anche tu puoi guadagnare 40€ per ogni amico invitato E quindi guadagnare 200€ invitando 5 amici al mese Io ti chiedo come sempre di aiutarmi con l'algoritmo di Youtube Per farlo ti basterà mettere un pollice in su questo video Se vuoi inoltre supportare la crescita di questo canale puoi iscriverti Ed attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video Partiamo dunque dalle basi e cerchiamo di capire come funziona il programma invito un amico di Revolut Il programma invito un amico di Revolut infatti Non è disponibile in automatico per tutti gli utenti Revolut Ovvero per tutte le persone che hanno un conto Revolut Ma è disponibile solo per chi effettivamente utilizza il proprio conto Ed in particolare per chi ha effettuato nell'ultimo mese almeno 3 operazioni E quindi 3 acquisti con carta Revolut E qui c'è la prima informazione che ti tornerà utile se anche tu vuoi guadagnare 40€ per ogni amico invitato Con il programma invito un amico di Revolut Per guadagnare infatti questi 40€ per ogni amico invitato Dovrai prima di tutto avere un conto con Revolut La buona notizia è che se non hai già un conto con Revolut Trovi in descrizione il mio link invito un amico Potrai dunque aprire il tuo conto e poi per far sì che effettivamente il bonus Venga accreditato alla persona che ti ha invitato In questo caso a me se non hai ancora un conto Revolut Dovrai fare alcune semplici operazioni La prima operazione è quella di richiedere una carta fisica Nel conto standard che è il conto gratuito di Revolut E in fase di registrazione ti consiglio di verificare Di selezionare il conto gratuito perché hai già tutte le funzionalità di base Che puoi volere da un conto corrente La carta standard è gratuita Potrai scegliere di pagare un piccolo sovrapprezzo Se vorrai una carta personalizzata Come ho fatto io fra l'altro Il costo che andrai a pagare per la richiesta della carta fisica È di 6,99€ Che è in realtà semplicemente il costo di spedizione della carta Come guadagnare quindi 40€ per ogni amico invitato con Revolut Prima di tutto dobbiamo invitare delle persone ad aprire un conto con Revolut Dobbiamo invitarle utilizzando il nostro link invito Il nostro link personalizzato A questo punto la persona dopo aver cliccato sul link Scaricherà l'app e seguirà la procedura guidata di registrazione Come ti dicevo prima il mio consiglio è quello di aprire per iniziare un conto standard In modo da cominciare ad esplorare personalmente tutte quelle che sono le funzionalità offerte da Revolut Fatto questo dovremo caricare il nostro conto Il mio consiglio è quello di caricare il conto con un importo minimo di 30€ Quindi richiedere una carta fisica Per chi vuole spendere il minimo indispensabile dovremo scegliere la carta standard Andremo a pagare quindi solamente 6,99€ se non ricordo male per le spese di spedizione A questo punto quindi una volta aperto il conto e poi richiesta la carta fisica Per ottenere il bonus la persona che invitiamo dovrà effettuare 3 operazioni E quindi 3 acquisti dell'importo minimo di 5€ Non sono validi all'interno degli acquisti considerati validi appunto dal regolamento di Revolut Il gioco d'azzardo, i bonifici ed altre tipologie di acquisti Per questo motivo il mio consiglio è quello di proporre 3 acquisti intelligenti Ovvero 3 acquisti che non ci facciano spendere soldi semplicemente per ottenere il bonus Ma che possiamo effettivamente sfruttare in maniera semplicissima Il primo acquisto può essere l'acquisto di una ricarica per il nostro cellulare da 5€ o da 10€ Facendo questo acquisto noi andremo a sfruttare questi soldi che stiamo spendendo In realtà per il rinnovo del nostro piano in abbonamento Oggi chiunque ha un piano in abbonamento sul proprio smartphone E quindi tanto vale sfruttare appunto questo pagamento Per avere comunque il nostro rinnovo e non aver sprecato i soldi Il secondo acquisto che consiglio è un acquisto ancora una volta di minimo 5€ Di prodotti che utilizziamo quotidianamente e che possiamo comprare in un supermercato Quindi andremo al supermercato, faremo la nostra mini spesa da un importo minimo di 5€ E poi andremo a pagare con Revolut Il terzo acquisto può essere la prima occasione utile Ovvero la prima uscita che durante l'estate magari è più frequente con gli amici Quindi potrebbe essere una colazione al bar oppure un aperitivo Ancora una cena in pizzeria In quel caso tutto quello che dovremmo fare è pagare ancora una volta con Revolut Una volta effettuate 3 operazioni di un importo minimo di 5€ La persona che ci ha invitato riceverà il suo bonus da 40€ per averci invitato E averci fatto completare correttamente la procedura per ottenere il bonus Ma perché anche tu che non è Revolut dovresti fare tutta questa procedura per regalare 40€ alla persona che ti ha invitato? Semplicemente perché in realtà se comincerei ad utilizzare Revolut e comincerei ad effettuare i tuoi pagamenti con Revolut Anche tu avrai in breve tempo la possibilità di invitare altre persone ad utilizzare Revolut E riceverai così anche tu 40€ per ogni persona invitata Ecco perché il mio consiglio se non hai ancora Revolut è quello di utilizzare il link in descrizione Il mio link invito è provare tu stesso Revolut Per poi farti sbloccare la sezione invito un amico e guadagna con Revolut Un modo davvero semplice, veloce e che funziona Per avere un piccolo extra mensile per guadagnare 40€ per ogni persona che riusciamo a invitare Senza grandi sforzi e senza nessuna fatica Ma come facciamo ad invitare altre persone ad iscriversi a Revolut? In realtà è più semplice di quello che pensi Possiamo infatti parlarne con amici, familiari, conoscenti, parenti Oppure possiamo parlarne al bar, magari col barista O ancora in pizzeria con il cameriere o al supermercato con qualcuno che conosciamo Oppure possiamo utilizzare i social per proporre Revolut E per ogni persona che completerà correttamente la procedura noi otterremo il bonus Io spero come sempre che questo video ti sia stato utile E ti abbia dato un metodo semplice e veloce per effettivamente guadagnare qualcosina ogni mese In maniera assolutamente naturale magari perché parlando con degli amici Gli consigli quel conto che stai utilizzando e che hai scoperto da poco Se questo video ti è stato utile io ti chiedo di farmelo sapere nei commenti E ti chiedo di supportare questo canale mettendo un pollice in su Iscrivendoti ed attivando la campanella per ricevere una notifica Ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video All'interno del canale parlo di metodi di guadagno online Ma parlo anche di viaggi, di esperienze Condivido con tutti voi alcune delle cose che faccio Che secondo me possono essere interessanti oppure utili ad altre persone E dunque noi ci vediamo come sempre Se vorrai con un nuovo video su questo canale All'interno del canale All'interno del canale All'interno del canale